Buonasera a tutti gentili telespettatori, benvenuti ad un nuovo appuntamento con fatti e commenti dalla segna stampa quotidiana di TVRS. Le notizie del giorno sono un po' quelle relative alle ricerche del giovane scomparso da domenica nella zona montana del Fermano. La macchina dei soccorsi, ne abbiamo già parlato, si è messa in moto, coordinata dalla prefettura di Fermo e dal momento l'attività si è concentrata nelle zone di Amandola, Montefortino e Comunanza, sul posto ovviamente i vigili del fuoco, la protezione civile, i carabinieri e il soccorso alpino. Si tratta di un giovanissimo ragazzo straniero e la sua scomparsa è stata denunciata dal fratello. Poi parleremo ancora di cronaca con il grave incidente stradale di questa mattina a Monzano che ha visto coinvolte due vetture con quattro feriti con codice rosso trasportati all'ospedale regionale di Torretto e poi le altre notizie le vedremo ovviamente dai siti. Vi presento l'ospite di questa prima parte della nostra trasmissione, Simone Pugnaloni, sindaco di Osimo. Buonasera Simone, grazie per essere intervenuto. Buonasera a voi, grazie per l'invito. Simone Pugnaloni è al suo secondo mandato da sindaco, rieletto nel 2019 con l'affermazione su Vino Latini. Senti, subito in apertura, Ancone e Macerata sono passati dal centro-sinistra al centro-destra. Un PD che ha vissuto sicuramente i giorni migliori, avverti una sindrome d'accerchiamento? Sono per natura una persona positiva e amo dire che le sfide elettorali delle amministrative si basano sulle persone e sui programmi. Sicuramente c'è un vento forte di destra, ma è la democrazia questa. Il PD deve fare un importante esame su se stesso di come costruire alleanze importanti, di come costruire programmi importanti, ma soprattutto di come ricostruire in mezzo alla gente le prossime vittorie, alle amministrative, alle regionali e alle politiche. In mezzo alla gente, l'ho voluto sottolineare. Senti, Osimo, lo diciamo a beneficio dei nostri delle spettatori, quasi 35 mila abitanti con una popolazione residente tra l'altro in fortissima e costante crescita ormai da decenni. Ti chiedo, quant'è complesso amministrare una città come la tua che ha tante anime? Non ne parlavamo poi la settimana scorsa con il sindaco di Fermo, ma anche voi avete tante anime. Cito le frazioni più importanti, Osimo Stazione, Passatempo, Padiglione, San Biagio, Campo Cavallo, eccetera, eccetera, quindi veramente devi essere attento a tantissime esigenze richieste. La vera sfida è quella di marcare il territorio. Poi ognuna delle nostre dieci frazioni, che contemplano la metà della popolazione osimana, ha una sua identità, ha una sua società sportiva, ha le sue problematiche, però girando il territorio ad esempio d'estate a me piace prendere lo scooter, ho già incominciato i miei tour in mezzo ai miei concittadini, raccolgo quelle che sono le esigenze e attraverso questa scatola di iniziativa personale, dove dentro ci inserisco tutte le esigenze che raccolgo contro la gente, riesco a costruire un buon bilancio che sappia bilanciare le richieste di tutte queste frazioni e del centro città. Hai detto un po' la stessa cosa, non so se conosci il sindaco di Fermo, Paolo Qualcinaro, che tra l'altro è il presidente facente funzione di Anci Marchi, però ha detto la stessa cosa, bisogna essere veramente sul posto, sul terreno, tra la gente, come dicevi tu in precedenza. Iniziamo a dare un'occhiata alle notizie della giornata, partendo ovviamente dal nostro portale utvrs.it e dando un'occhiata alla cronaca, perché una notizia dell'ultimo ora c'è stato uno scontro frontale tra due auto, una finisce in un campo, la leggiamo insieme, i vigili del fuoco sono intervenuti alle 18.30 lungo la provinciale 24 nel comune di di Loreto per un incidente stradale tra due autovetture. Per cause in fase di accertamento i due mezzi si sono scontrati frontalmente tra loro ed una delle due auto è finita nel campo adiacente alla carreggiata. Uno degli occupanti dei mezzi è stato trasportato con l'eleambulanza al pronto soccorso per accertamenti. La squadra di Osima ha provveduto alla messa in sicurezza dell'area dell'intervento sul posto anche i sanitari del 118 e la polizia locale. Andiamo alla notizia di apertura che vi abbiamo già detto all'incidente stradale che c'è stato questa mattina a Monzano attorno alle 8.30 all'incrocio tra via Sant'Ubaldo e via Emilia Romagna. Due macchine si sono scontrate, una famiglia di Iesi con madre, padre e due figli, una di 16 e una di 10 anni e di 10 anni, è finita contro un'altra vettura in sosta sull'altro lato della strada, questa a sua volta contro un'altra macchina ancora che le era a fianco. Quattro i feriti in gravi condizioni in codice rosso per l'ospedale di Torretti, sono stati trasportati all'ospedale di Torretti, il più grave ma non in pericolo di vita è il ragazzo che a seguito dei traumi riportati anche alla testa è stato caricato in eleambulanza, quindi una pagina di cronaca molto molto ricca. Vediamo anche l'apertura del Corriere Adriatico, dramma sulla via per la spiaggia, famiglia si schianti in auto, quattro feriti, gravissimo un bimbo di 10 anni, insomma anche qui c'è la stessa apertura. Poi ad Ascoli Piceno, ricoverato d'urgenza al mozzone, gli viene impiantata la prima protesi metallica al colon. E poi altre notizie, la cabina di montaggio si stacca e l'operaio batte la testa, infortunio alla CNH arriva l'eleambulanza, quindi una pagina di cronaca, poi ne parleremo anche in seguito, molto molto ricca. Allora ci sono tanti temi di attualità che riguardano la tua città, partiamo da quelli più urgenti, diciamo così, la chiusura dei tre archi, dopo i danni del maltempo di giugno, no mi sembra Simone, qualche malumore direi inevitabile tra commercianti e residenti. Ti chiedo i tempi e anche le soluzioni alternative che state pensando di adottare. Intanto chiedo pazienza a tutti i residenti della zona San Marco, sono nato e cresciuto in quella zona e quindi sto attenzionando in prima persona la progettazione e l'inizio lavori. Credo che a breve si sbloccherà, credo forse la prossima settimana partiranno i lavori e come ho detto poc'anzi, in qualche intervista mi è stata fatta, spero di poter riaprire per Ferragosto i tre archi al transito. Sicuramente qualche disagio lo sta creando le attività commerciali, io gli voglio essere vicino, ho promesso che appena inizieranno i lavori faremo una zona bianca, nel senso toglieremo i parcheggi blu e lasceremo zone a 30 minuti così che il cliente che era abituato a fare il solito giro fa un giro in più ma non paga il parcheggio. Questa è l'agevolazione che possiamo rendere ai clienti dell'attività commerciale di San Marco, però dovete anche sapere che c'è stato un distacco della strada dalla volta dei tre archi di circa 10 cm che ci ha impaurito molto e la notizia importante invece per tutta Osimo è che quando avremo completato i lavori potremo togliere definitivamente il ponteggio e quindi riavere Porta Vaccaro che è la porta principale della città senza quel ponteggio che in tanti mi chiedevano di togliere. Quindi quella è una notizia importante per tutti gli osimani. Invece per i residenti di San Marco e le attività commerciali che stanno soffrendo questo blocco voglio essergli vicino come ho promesso con i parcheggi e giratori appena inizieranno i lavori in una speranza che l'attività che svolgerà l'azienda prescetta per questi lavori sia veloce ma abbiamo scelto un'azienda di Osimo che conosce bene. Tu solleciterai come tuo costume, questo è fuori discussione. Io sono sempre sul pezzo, andrò a far visita tutti i giorni affinché i tempi che abbiamo detto e affermato siano veritieri. Allora andiamo con il sito ansamarche.it, ovviamente questo è sotto gli occhi di tutti questa ondata di caldo torrido e Ancona con bollino arancione oggi e domani, lo indica il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute che prende in considerazione 27 città italiane. Bollino arancione che indica il rischio salute per la fascia di popolazione più vulnerabile quali anziani, bambini e portatori di malattie croniche. Le città che hanno questo bollino sono 8 in tutto tra cui appunto Ancona e ovviamente questa ondata di caldo africano dovrebbe attenuarsi a partire, anche se il condizionale è d'obbligo, dalla giornata di giovedì. A Baia Flamina di Pesero si torna a fare il bagno a mare, invece è stata revocata l'ordinanza che vietava temporaneamente la balneazione a partire da sabato 8 luglio nelle acque e marino costiere corrispondente ai tratti individuati come zona 50 metri nord, tratto a mare, viale Varsavia, 150 metri sud, tratto a mare, viale Varsavia, via Parigi, numero civico 8, viale Berna. Come certificato dall'ARPAM che ieri ha effettuato i controlli, i valori sono rientrati nella norma consentendo la normale fruizione delle acque, fa sapere il comune di Pesero. Dunque, ripeto ancora, revocato il divieto di balneazione a Baia Flamina a Pesero. Ce ne siamo occupati, nei giorni scorsi Simone c'è stata la presentazione del bilancio di sostenibilità di Astea, la multi utility con sede principale proprio ad Ossimo, lo ricordiamo, cura tanti servizi, gas, acqua, energia, teleriscaldamento, igiene e decoro urbano e forse dimentico anche qualche altra cosa. Anche voi comunque state facendo la vostra parte e soprattutto letto di interventi che riguardano le scuole. Sì, noi vogliamo assicurare alla popolazione che è in crescita nella nostra città un'edilizia scolastica che sia alla portata delle future generazioni. Ad esempio citavi alcune frazioni di Ossimo importanti, Campo Cavallo è diventata la seconda frazione della città di Ossimo, la popolazione è molto cresciuta, ci sono tante famiglie giovani. Avevamo promesso all'inizio del mio primo mandato, lo dico senza ricriminare nulla, che avremmo costruito questa scuola. Possiamo anche vedere alcune immagini delle scuole. Purtroppo avevamo fatto una scelta, avevamo fatto la scelta del fondo immobiliare del Miur e per un mandato siamo andati dietro a questo progetto che poi è naufragato per colpa del MEF e abbiamo subito acceso muto per la realizzazione di questa scuola. Entro la fine dell'anno questa amministrazione al suo secondo mandato, come promesso, porrà la prima pietra della nuova scuola primaria di Campo Cavallo. Credo che sia un gesto comunque concreto di un impegno preso che portiamo a termine. Il futuro sindaco sarà quello che poi ne taglierà il nastro. Senti, una domanda più generale, mentre possiamo continuare a vedere queste immagini. Molti comuni attorno a voi, penso per esempio ad Ancona, stanno subendo un callo di popolazione, forse fisiologico, ma anche per certi aspetti preoccupanti da un certo punto di vista. Perché ad Osimo si è passati dai 22-23 mila abitanti degli anni 70 ai 35 mila attuali, secondo te? Credo che sia stata fatta una pianificazione urbanistica con un calcolo dimensionale eco per la città. Noi stiamo facendo un nuovo piano urbanistico comunale, non si chiama più PRG, ma si chiama PUC, piano urbanistico comunale. Noi abbiamo criticato la scelta del calcolo dimensionale del passato delle amministrazioni civiche a 45 mila abitanti. Abbiamo ridotto 40 ettari di terreni edificabili, abbiamo riportato le agricole perché crediamo nella rigenerazione. Ma la cosa importante è creare, prima ancora di nuove abitazioni, creare i servizi dove si vanno a costruire nuove abitazioni. E su questo Osimo è all'avanguardia. Prima facevi vedere delle fotografie che riguardano l'edizia scolastica e i fotovoltaici. Noi abbiamo investito in questi primi quattro anni di mandato, ne manca uno, un milione di euro nei fotovoltaici nelle scuole e nelle strutture pubbliche e oggi siamo orgogliosi di avere delle scuole a consumo zero e un maxiparcheggio, ad esempio, investendo 260 mila euro, che ha una trazione dell'impianto di salita gratuita da sempre, ma che oggi viene ripagata da questo impianto fotovoltaico che abbiamo installato. Io ricordo che una volta Osimo era forse il centro difficilmente raggiungibile. Adesso veramente questo maxiparcheggio ha rivoluzionato un po' questo modo di essere. Diciamo che nel nostro programma amministrativo c'era scritto Osimo città europea, Osimo città internazionale, perché abbiamo una vocazione al turismo importante, ci abbiamo investito tanto. Però tutti devono sapere, compresi gli osimani e non solo i visitatori, che al maxiparcheggio di Osimo con soli due euro tu puoi sostare per 24 ore. E con l'impianto di salita gratuito arrivi tre minuti in centro storico. Credo che questa sia la novità più importante di questi anni che ha portato a triplicare le presenze turistiche nella nostra città. Sedi, tra le altre cose mi sovviene che avete cercato anche di abbellire il maxiparcheggio con delle esposizioni d'arte, lo rifarete? Abbiamo inaugurato la settimana scorsa una nuova mostra sulla pop art grazie a Monica Caputo a Palazzo Gallo, un palazzo privato che si è reso disponibile per l'organizzazione di questa mostra. Ci sono venti artisti di street art che hanno messo in esposizione le loro opere, ma è un filone che continua. Baschi. Baschi, ma abbiamo fatto anche con Moneyless e altri artisti, abbiamo fatto proprio delle opere artistiche, ad esempio nel tetto del mercato coperto. L'abbiamo fatto alla stazione di partenza del tiramisù, ma soprattutto noi vocati a donare una Osimo per le future generazioni, stiamo investendo nei prossimi mesi nell'inaugurazione della riapertura del cinema concerto in centro storico in un ridotto del tetto non finisce da mettere a disposizione della musica ad Osimo, perché ci sono dei sodalizi molto importanti come l'Accademia d'Arte Lirica, come la Scuola Civica di Musica e come l'indirizzo musicale alla Scuola Media Cagiriuscese. Insomma, Osimo è Moveda, ma anche cultura e quindi questo mix ci ha portato fortuna e ci abbiamo investito molto. Allora, parliamo ancora di cronaca, sempre dal sito ansamarche.it, perché ci sono stati oltre 60 interventi della Polizia di Stato per sedare varie liti, verificate sia da Ancona in meno di un mese e mezzo. Di queste quasi la metà riguardavano fatti avvenuti all'interno di contesti familiari e questo è un dato che sicuramente ci fa riflettere. Lo ha reso noto la questura che ha preso in esame il periodo dal primo giugno ad oggi annoverando 64 litigi riconducibili a contrasti in tema di viabilità, questioni condominiali, rumori, soggetti molesti, episodi in cui gli agenti hanno in primo luogo riportato la calma assicurando la sicurezza e l'incolumità. Decine, ben 28, le liti in famiglia avvenute nello stesso periodo, dato per cui la Polizia suggerisce alle donne di non sottovalutare alcun segnale di comportamenti maltrattanti e di poter segnalare le situazioni a rischio anche in forma anonima. Sindaco, qual è la situazione ad Osimo, al di là del fatto che ha colpito tutti di Ilaria? Ha colpito anche te a livello personale? Ma io credo che c'è da fare ancora molto in termini di pari opportunità e credo che queste siano scelte che debbano nascere prima di tutto nelle nostre famiglie e credo che il Comune debba fare una politica di formazione e di informazione su queste tematiche e debba essere molto attenta a costruire dei progetti con l'associazionismo locale e anche col mondo della scuola. Ilaria, lo ricordiamo, è stata la donna barbaramente uccisa qualche mese fa. Parliamo di PNRR, lo facciamo spesso con i sindaci che ci vengono a trovare con le tante opportunità, Simone, che offre. Allora, ti chiedo con il dono della sintesi dove verranno indirizzati principalmente questi fondi? Noi abbiamo 4 milioni e 300 mila euro con il fondo PINQUA, qualità dell'abitare, andremo a fare un restyling del Forobuario di Porta Vaccaro dal punto di vista non strutturale ma l'abbellimento architettonico. Andremo ad abbellire il quartiere di San Marco dove c'è un comparto 28 dedicato all'edilizia popolare e poi con questi fondi andremo a costruire finalmente una nuova scuola media al centro storico cercando di esaudire un desiderio che era quello dei due dirigenti scolastici Caglio Giulio Cesare e Bruno Daosimo che stanno condividendo gli spazi della scuola secondaria nel plesso della Caglio Giulio Cesare. Un domani con questi fondi la Bruno Daosimo che è già in centro storico con la scuola primaria avrà al suo fianco la scuola secondaria e la Caglio Giulio Cesare tornerà ad avere i suoi spazi e credo che avere una scuola media in centro storico con una palestra di 500 metri quadrati non servirà solo alla parte educativa dei nostri giovani ma anche alla parte sportiva perché Osimo conta 60 società sportive che chiedono tutti i giorni spazi per allenarsi e tornare ad allenarsi in centro storico mi ricorda un po' quando ai miei inizi della mia piccola carriera cestistica faceva allenamento proprio nella palestra di Santa Lucia. Assolutamente sono i sistemi per rivitalizzarlo poi un centro storico ed invece tornando alla cronaca e riferendoci al sito cronacemaceratesi.it parliamo di questi sigilli al bar La Pista Coppa di Macerata perché il questore Luigi Siripo ha emesso un'ordinanza di chiusura di sette giorni sulla base del testo unico nei confronti dell'attività commerciale lo diciamo anche a beneficio dei maceratesi che si trova praticamente in piazza Nazario Sauro cioè davanti allo Sferisterio e che nelle scorse settimane era stato a teatro di episodi di ordine pubblico solo sabato scorso un provvedimento analogo era stato emesso nei confronti del vicino locale Kebab di Viale Trieste quindi sigilli per il bar di piazza Nazario Sauro La Pista Coppa che i maceratesi conoscono come il famoso barriccio quello che si trova proprio davanti allo Sferisterio quindi un provvedimento di chiusura per sette giorni un'altra questione pressante Simone è quella della sanità non ce lo nascondiamo c'è stata anche una riunione nei giorni scorsi del comitato dei sindaci dell'ambito territoriale 13 no quello della Val Musone conosimo capofila ma che comprende anche i comuni importanti Castelfidrat, Doloreto, Numana, Uffagna e Sirolo che prospettive vedi e quali sono diciamo così se ci sono i motivi di preoccupazione? Tutti i sindaci hanno pensato bene di fare squadra sul fatto che bisogna investire in personale specializzato e strumentazione medica nei luoghi dove già si opera bene Aldoosimo, Castelfidardo, Loreto e Camerano abbiamo già dei buoni poliambulatori e delle strutture ospedaliere da riconvertire nel caso di Loreto in ospedale della comunità ma dico anch'io che premerò sulla riconversione del Santimino del Rocco cioè un domani quando tutti andremo all'ospedale di rete IRCA di Aspio che abbiamo scelto insieme avremo a disposizione una struttura tutta pubblica che è il Santimino del Rocco con un blocco operatorio importante, un laboratorio analisi all'avanguardia una struttura radiologica importante e soprattutto un pronto soccorso all'avanguardia con un primario quindi quando tutto si sposterà all'aspio anche ad Osimo un buon ospedale della comunità assieme ad un protocollo che era stato sottoscritto con l'ospedale di Torrete e con l'IRCA per fare delle operazioni specialistiche su Osimo credo che possa essere un buon avvio di una sanità che dice oggi la destra la mettiamo alla prova sia quella di riaprire i piccoli presiedi cioè la destra ha vinto sulla sinistra perché a differenza del centro sinistra che voleva delle grandi strutture molto capaci e ubicate in zone baricentriche per un polo che fosse stata una provincia la destra ha vinto dicendo riapriremo i piccoli ospedali la capillarizzazione insomma delle strutture ospedaliere al fianco di questo non possiamo dimenticare le case della salute i poliambulatori ma soprattutto l'ambito numero 13 in nostro caso i servizi territoriali resi agli anziani, ai giovani, alle persone non autosufficienti e quindi c'è una proposta quella di unificare gli ambiti con i distretti sanitari ecco la nostra proposta qui è questa nel nostro caso abbiamo diversi ambiti e un unico distretto se loro vogliono unificare noi chiediamo tre dirigenti uno per la Valmusone, uno per la città di Ancona e uno per la città di Falconara se fosse invece un unico dirigente a gestire risorse per tre ambiti sicuramente ci metterà in forte difficoltà perché adesso noi sappiamo ben gestire la Valmusone con 100.000 abitanti se un domani avremmo un solo dirigente per un polo che diventa invece di 300-400.000 abitanti diventa molto più difficile l'hai detto giusta, insomma la Valmusone con tutti i suoi comuni racchiude più di 100.000 abitanti andiamo ad un altro aspetto sempre da cronachemaceratesi.it perché sono partite ufficialmente questa mattina le demolizioni nel centro storico di Visso e vediamo le ruspe all'opera dal largo Gregorio XIII a scendere verso il cuore storico della città all'opera i mezzi di una ditta di Camerane della Conero Frantumazioni che hanno ottenuto l'appalto per 1.888.000 euro parliamo ovviamente del sisma del 2013 e sono trascorsi ormai sette anni ad annunciarlo l'amministrazione comunale ed anche il commissario Guido Castelli che in un commento sulla sua pagina social ha fatto il punto della ricostruzione nella perla dei Sibillini oggi è una giornata trista detto ma al contempo una giornata di speranza e di rinascita e qualche volta passando da quelle parti fa davvero male al cuore vedere Visso ancora in quelle condizioni e Visso e gli altri centri ovviamente dell'Alto Maceratese non solo Osimo, Simone da qualche tempo cerca anche di attrarre come dire un buon flusso turistico con alcune sue peculiarità voi state cercando di metterci del vostro con molteplici iniziative estive mi viene in mente Calici di Stelle l'Osimo del Settecento ed anche altre Sì, siamo partiti alla grande con 2000 presenze nella serata con Paolo Crepe abbiamo riempito il teatro con Dacia Maraini e poi a seguire c'è Calici di Stelle quest'anno nel weekend di Ferragosto ci saranno una serie di iniziative e spettacoli con artisti tutti usimani e credo che questa sia e poi abbiniamo i concerti ai venerdì di luglio con l'apertura dei negozi fino a tarda sera il primo venerdì c'è stato Casino Latino con la musica latinoamericana che ha riempito le nostre piazze venerdì ci saranno le Anime Nere che è un complesso storico di Osimo insomma diversifichiamo valorizziamo gli artisti nostri concittadini teniamo aperti i negozi e facciamo sì che l'estate tra luglio e agosto non manchi una sera di avere un'iniziativa sul nostro territorio Ferragosto compreso se non sbaglio con Santini? con Marco Santini che ormai è un classico il concerto di Marco che riempie le nostre piazze perché è un artista di qualità che veramente ti fa tremare il cuore dalle emozioni quando suona per tutti noi quindi credo che sia un'estate all'avanguardia ma soprattutto amo dire che i visitatori che arrivano ad Osimo si innamorano prima del territorio perché lo visitano e poi si fermano per il buon mangiare del nostro territorio e poi si fermano per il concerto dopo scena quindi abbiamo un'offerta a 360 gradi dove il turista che si è fermato magari per una settimana in Riviera del Conero passa una bella giornata da noi aggiungo una cosa però è un'iniziativa sportiva che sta praticamente sul piede di partenza perché due nomi sono un po' cari a tutti gli appassionati quelli di Mauro Lanari e quello di Roberto Bellezza quindi il Diana di Osimo e il Muzio Gallo di Passatempo ospiteranno dal 31 luglio al 5 agosto la seconda riedizione del memoria Lanari Bellezza ci saranno sei squadre primavera tutte professionistiche Inter, Lazio, Fiorentina, Bologna, Atalanta e Re Canatese ecco un appuntamento da non perdere anche questo ricordando i tempi eroici del trofeo Bellezza ma io è una il trofeo Lanari di Roberto Bellezza è una scommessa importante che ho vinto l'anno scorso ci siamo messi in campo con per il centrale Rosimana con i dirigenti di Rosimana che avevano queste relazioni con alcune società professionistiche si sono trovate bene ad Osimo la volta scorsa e hanno già chiamato nei primi mesi di quest'anno per poter tornare ad Osimo mi sono impegnato per trovare le risorse in questi mesi da inizio anno alla primavera le risorse gli sponsor che ringrazio sono arrivati e quindi oggi ci ritroviamo non con 4 squadre di Serie A quest'anno ma con 5 squadre di Serie A che soggiorneranno ad Osimo per 5 giorni sarà una bella carmessa sportiva in onore di Roberto che aveva organizzato per la morte del suo nipote Mauro i familiari sono entusiasti di questo a me vengono solo le lacrime e gli occhi a pensarci sia dell'entusiasmo il quale Roberto lo organizzava tanti anni fa sia del fatto che un giovane promettente abbia perso la vita così in maniera troppo troppo presto comunque il miglior modo per ricordarlo appunto riproponendo questo torneo allora andiamo ancora al nostro sito utvrs.it perché vi dicevamo che le notizie di cronaca di oggi sono tantissime c'è stato un doppio intervento alla stazione ferroviaria di Ancona è stata a soccorso una coppia di ucraini di 30 e 42 anni in preda ai fumi dell'alcol sul posto è intervenuto un mezzo della croce gialla poi i due sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette e rimanendo sempre sul nostro sito utvrs.it la notizia di un pomeriggio piuttosto movimentato oggi alla spiaggia del passetto d'Ancona in zona Grotta Azzurra dove un 53enne residente nel capologo di regione si è ferito ad un polpaccio lesione che secondo una prima ricostruzione sarebbe stata provocata da un ferro sporgente presente in una roccia siamo quasi in conclusione Simone diciamo una domanda duplice per chiudere come immagini come auspichi o come vorresti il tuo futuro politico visto che il mandato scada appunto nel 2024 credo come per tanti colleghi lo sia stato spero sia per me lo saranno per i sindaci del futuro amministrare una città è una palestra di vita politica ed è la base per costruire un futuro politico non siamo obbligati a continuare ce lo deve chiedere il popolo e ce lo deve chiedere il nostro partito di provenienza ma credo che io nel mio piccolo possa dare qualcosa in più per la città di Osimo per la Valmusone magari con la prospettiva delle regionali del 2025 questo sì mi piacerebbe chiedere al mio partito di potermi mettere a disposizione e se dovessi essere eletto a quel punto fai un salto di qualità non sei più solo il rappresentante di Osimo ma di una comunità più vasta che abbiamo detto possa essere ricompresa nell'ambito numero 13 ovvero nell'ambito della Valmusone bene grazie a Simone Pugnaloni sindaco di Osimo è il piacere di rivederti Simone ovviamente ricordiamo anche i tanti appuntamenti per chi vorrà visitare anche nella stagione estiva la città di Osimo diciamo in ogni sera c'è un motivo per andarci nel centro storico di Osimo e non solo vi invito a restare con noi perché dopo la pausa pubblicitaria avremo un altro ospite e parleremo di uno sport caro tra l'altro a Simone Pugnaloni il ciclismo con un personaggio davvero particolare una sorta di Iron Man del nostro territorio vado a dire di Montecosa da tra poco eccoci di nuovo in studio per fatti e commenti dalla segna stampa quotidiana di TVRS vi presento subito l'ospite di questa seconda parte un po' ve l'ho preannunciato Lorenzo Bacifava ciao Lorenzo ben trovato benvenuto una passione infinita per la bici è reduce da una vera e propria impresa ma non solo questa impresa perché ne ha fatte diverse tra poco ne parleremo andiamo avanti con le notizie dal sito ansamarche.it oggi c'è stata la seduta del consiglio regionale ma si è parlato anche di giunta perché l'esecutivo varerà la misura ci conferma ansamarche.it per il cosiddetto doppio binario per l'assistenza dei pazienti in pronto soccorso misura che ha l'obiettivo di abbassare i tempi d'attesa in particolare per i codici di minore gravità bianco e verde già avviata a macerata e civita nuova marche che si dovrebbe estendere ai pronto soccorso di tutta la regione l'ho detto proprio a margine della seduta del consiglio regionale l'assessore Filippo Saltamartini dobbiamo garantire che il numero di persone che si presenta in codici bianchi e verdi fenomeno che esiste anche per la carenza della medicina del territorio possa avere un accesso adeguato e non permanere all'interno di pronto soccorso per lunghissime ore detto Saltamartini in sostanza ci saranno medici ed infermieri deputati a valutare le condizioni dei codici bianchi e verdi mentre il triage valuterà i codici bici rossi arancioni eccetera questa è una misura chiaramente molto sentita un po' da tutta la comunità io ho detto sintetizzando una passione infinita per la bici e per illustrare chi sei dico solo che sei reduce da un'esperienza in Armenia dove ti sei sparato in sette giorni 1200 chilometri 26.000 metri di risdivello a una media di quasi 200 chilometri al giorno tra l'altro per gran parte ho letto in strade non asfaltate 85% 85% di strade non asfaltate senti ti chiedo subito cosa prevale in te il senso dell'agonismo quello dell'avventura o la voglia di confrontarti con te stesso o tutte queste cose messe insieme ecco esatto sono tutte queste cose messe insieme è nato innanzitutto con la voglia di confrontarmi e l'avventura perché ho sempre amato viaggiare e poi è subentrato l'agonismo che comunque ce l'avevo già diciamo da piccolino perché ho corso con una squadra agonistica e quello è riuscito fuori adesso di nuovo perché era una cosa che in realtà avevo perso con gli anni e che invece hai recuperato e rispolverato in una città europea esattamente a Berlino che tu hai definito città a misura di bicicletta sì assolutamente sì penso che è la prima città in Europa dove uno può pedalare veramente in pace e ecco senza la paura di essere come qui da noi al contrario purtroppo delle nostre città dove andare in strada vuol dire è una pericolosa scommessa continua esatto esatto e quindi lì hai ritrovato questa sì qui ho riscoperto ho ritrovato questa mia passione questa mia la voglia di ricominciare a pedalare in maniera diversa però quello diciamo rispetto a quello che era l'agonismo adolescenziale e ho iniziato lavorando con la bici facevo consegne poi ho conosciuto un gruppo di ragazzi che mi hanno inserito in un circuito di bici a scatto fisso molto estreme quindi bici senza freni gare eccetera eccetera e poi l'avventura ho conosciuto di ragazzi che mi hanno aperto il mondo del viaggio in bicicletta qui Palenque parliamo del Messico sì qui ero in Messico due anni fa due anni fa allora in un'occasione pre-pandemia ti sei sparato un tragitto di 18.500 km dal Giappone a Monte Cosa attraverso deserti steppe montagne pianure e tutto il resto sì un'esperienza irripetibile o ripetibile no irripetibile queste sono cose che si fanno una volta nella vita basta una volta è più che sufficiente un anno e mezzo in bici pieno di di tutto tempo sono arrivato in Giappone durante la stagione delle piogge quindi il viaggio è iniziato in maniera davvero estrema ho preso pioggia per 3.000 km ho voluto raggiungere il punto più a nord estremo a nord del Giappone me lo ricordo ancora è stato un inferno perché pioveva e pioveva vento raffiche fino a 70 80 90 km e poi alla fine in realtà l'ho raggiunto ho attraversato tutto il Giappone gran parte con pioggia temporale qui siamo in Cina poi finalmente sono entrato esatto tra la Corea e la Cina si è calmata la situazione a parte un tifone estremo che c'è stato in Cina e diciamo che c'è avuto questa parentesi di pace tra la Cina e la Mongolia perché c'è stato era tra agosto e settembre qui c'è poco bisogno di presentazione esatto poi a ottobre sono entrato in Russia Siberia e da lì era iniziato tra virgolette un inferno la vera avventura perché ho toccato i meno 30 gradi e ho dovuto pedalare 6.000 km in tre mesi perché il visto durava tre mesi e quindi pedalare per tre mesi da ottobre a gennaio in Russia attraversandola tutta quasi tutta praticamente 6.000 km è stata una cosa indimenticabile credo che non farò mai più una cosa simile ma sono strafelice di averla affrontata superata e vinta diciamo perché è stata una lotta come si reggono i meno 30 della Siberia personalmente male 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 ci ho avuto un massimo di 30 km al giorno pedalabile poi stop poi per fortuna che l'ospitalità è una cosa che in Russia regna quindi camionisti la solidarietà di chi condivide le difficoltà assolutamente poi per il russo una persona che è capace di pedalare a meno 30 gradi se vede un russo una persona che pedala a quelle temperature lo reputa una persona forte quindi di tutto rispetto e quindi automaticamente deve essere ripagata con quello che possono loro assolutamente andiamo ancora a vedere le notizie siamo a QDM notizie che ci parla dell'incidente sul lavoro operaio nelle ambulanze a Torrette per quanto riguarda Iesi e poi ovviamente la notizia di Monzano ci mancherebbe altro che abbiamo già detto schianto tra auto feriti padre madre e due figli come abbiamo detto in precedenza poi a Cupra Montana QDM ci informa che a seguito di un possibile controllo i due motociclisti si sono andati alla fuga di entrambe si sono perse le tracce i carabinieri della stazione di Cupra Montana hanno sequestrato una moto di grossa cilindrata tutto iniziato a seguito di un possibile controllo la pattuglia ha visto due motociclisti e man mano i carabinieri si avvicinavano i due si allontanavano velocemente è nato un inseguimento per le piccole vie non lontano dal centro abitato una delle due moto di grossa cilindrata è andata fuori strada per la forte velocità e poco dopo il mezzo è stato ritrovato dai carabinieri che l'hanno sequestrato e non risulta rubato il Centauro con molta probabilità è salito sull'altra moto di entrambi si sono perse le tracce torniamo a Lorenzo Bacifava a questa esperienza di 18.500 km tra l'altro potremmo vedere anche altre foto perché uno dei paesi meno esplorati e forse anche da noi meno conosciuti in assoluto ecco questa è una foto che ha poco bisogno di commenti però ti dicevo uno dei paesi meno esplorati e forse anche meno conosciuti in assoluto è la Mongolia tra l'altro una nazione con una densità di popolazione tra le più basse del mondo nemmeno due abitanti per chilometro quadrato eppure dicevi hanno uno straordinario controllo del territorio assolutamente e come fanno secondo te allora innanzitutto loro usano telefoni satellitari tutti diciamo i pastori nomadi diciamo quelli che vagano per la steppa a Mongola e quindi hanno un controllo abbastanza ampio della situazione e poi probabilmente casa loro sanno come gestirla io non riesco in realtà non so esattamente come possano loro fare a controllare tutto tutto quello cioè tutto tutto quel territorio però per mia esperienza con l'esperienza che ho avuto io è capito nove volte su dieci io ero convinto di starmene solo nel bel mezzo del nulla poi la mattina trovavo il nomade che mi prendeva mi portava nella sua yurta che poi era in realtà non troppo distante mi offriva cibo latte e quello che potevano ecco quello che avevano quindi ma tu riuscivi ad organizzare tutto oppure andavi non dico a livello di improvvisazione però cercando di costruirti questo viaggio questa dovrebbe essere la porta di Brandeburgo questa è Brandeburgo quando sono arrivato già in Europa ecco ti dicevo oppure cercando di organizzarlo questo viaggio step by step perché forse non si può non fare che così vabbè allora io ho tracciato un percorso prima di partire ci ho speso 6-7 mesi per cercare di tracciare un percorso chiedendo informazioni leggendo blog eccetera eccetera poi chiaro durante il percorso ci sono le tempistiche dei visti che bisogna assolutamente rispettare la gente che ti ferma che ti ospita che c'è da calcolarle c'è da a mio parere sfruttare quei momenti stupendi come quelli e poi gli imprevisti vari quindi chiaramente si sono un po' i piani sono cambiati ecco la famosa iurta non so se qui siamo in Mongolia sì qui siamo in Mongolia ecco esatto vedete spazi immensi pensate Mongolia sarà un paese 7-8 volte l'Italia con una popolazione di 3 milioni di abitanti quindi veramente una cosa quasi inconcepibile però abbiamo voluto concludere con questa foto perché un altro aspetto che caratterizza questi due viaggi e che tu li affronti sempre da solo ecco ti chiedo è una tua scelta oppure non disdegneresti magari in futuro di avere un compagno al fine assolutamente è una mia scelta e non cambierò mai questa scelta perché avere un compagno per me è avere un ostacolo grande non è per me è perché penso che chi viaggia come me sa benissimo o c'è un feeling assoluto oppure ma non è impossibile avere un feeling assoluto con un compagno di viaggio perché esatto deve essere non so io credo che è quasi impossibile averlo perché comunque ognuno ha il suo modo non esiste non esiste una persona che riesce a tenere lo stesso ritmo che ha lo stesso ritmo gli stessi le stesse pause gli stessi momenti di fame di magari bisogni quindi sarebbe a mio parere per quanto mi riguarda è un intraccio è un ostacolo ecco quindi poi per me quando per me viaggiare è come è una meditazione quindi cerco di stare solo perché in quei momenti riesco a pensare a pensare ripensare riflettere capisco tante cose quindi no zero compagni poi quando mi fermo trovo sempre il compagno lo trovo sempre in ogni caso esatto noi abbiamo voluto mettere questa foto in conclusione di questo collage proprio perché comunque non credo che tu hai avuto mai problemi no zero mai mai di ordine pubblico diciamo così mai assolutamente mai nonostante mi è stato sconsigliato molte volte di passare quei villaggi quei paesi soprattutto in Messico non ho mai avuto un problema mai 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 per la mia poca esperienza il Messico che ho visto abbastanza diciamo uno dei posti più tranquilli in assoluto poi ovviamente se i guai te li vai a cercare li trovi assolutamente ma un po' in tutte le parti no ma quello sono d'accordo esatto sono d'accordo anch'io comunque purtroppo io penso che a volte uno emana delle energie e queste energie vengono captate e se queste energie sono negative o sono non sono ecco non sono buone energie accadono cose strane o a volte pericolose io so di questi io quando entro nei paesi anche quelli più pericolosi cerco sempre di sorridere di essere amico di tutti poi sono uno yes man non dico mai no quindi so che magari sto in un momento di pericolo e so che la mia il modo per affrontarlo l'unico modo per affrontarlo è evitare i no oppure scapparsene se ne ho una domanda e una curiosità mi viene spontanea tu avevi probabilmente un visto turistico di tre mesi no? no era un visto di lavoro lì ho fatto in Russia? sì sì ho dovuto fare un visto di lavoro tramite un'agenzia perché il turistico ai tempi era un mese l'hanno prolungato a tre sì tre mesi però per farsi tutta la Russia tre mesi per farsi la Russia bastano in estate e non bastano in estate no sono più che super ma alla frontiera cosa ti hanno detto? i docanieri i docanieri io la paura era infatti ho chiamato all'ufficio che mi ha rilasciato il visto per dire siete sicuri che qua non mi creano problemi perché comunque io ho il visto di lavoro mi vedono entrare in bici pure sporco e comunque barbuto e così e invece quando sono entrato da quella frontiera che è la frontiera tra la Mongolia e la Russia io credo che non abbiano mai visto un italiano prima di me o forse pochissimi prima di me e quando hanno visto il visto e hanno visto che venivo dall'Italia hanno solo fatto foto e congratulazioni e complimenti e buon viaggio e buona permanenza in Russia tra l'altro è uscito un'indagine pochi giorni fa che il nostro passaporto è forse uno dei più potenti è più forti del mondo il secondo posto è dietro quello delle Emirati aree politiche mi pare che possiamo viaggiare senza visti in 140 paesi assolutamente parliamo male da soli però abbiamo il passaporto forse più forte al mondo torniamo alle notizie andiamo a vivere Pesaro raddoppiano i concerti alla palla al giovedì i più noti musicisti del jazz in piazzale della libertà un'altra tua passione è la musica vero? in modo particolare cosa? rock rock classico rock classico soprattutto la musica anni 70 è quella che si ha un più di tutti questo lo condividiamo forse sarà anche per l'età allora invece qui parliamo dell'estate da capitale di Pesaro 2024 alla palla di pomodoro ai concerti del lunedì comune di Pesaro e a Potels aggiungono altri tre imperdibili eventi in musica che si terranno in piazzale della libertà alle 21.15 per tre giovedì consecutivi 27 luglio e 3 agosto protagonista sarà la Aldemaro Moltedo Jazz Band e i pezzi evergreen più amati del panorama americano e italiano ovviamente poi Pesaro si prepara al Rossini Opera Festival che quest'anno tra l'altro avrà delle produzioni quasi uniche per una stagione che si preannuncia davvero memorabile torniamo invece aiutvrs.it e alle notizie in modo particolare di sport perché oggi pomeriggio c'era questa conferenza stampa molto attesa e molto importante che riguardava l'Ancona e la notizia ci informa Ferdinando Vicini è che l'US Ancona cambia al vertice solo Roberta Nocelli nella conferenza stampa di questo pomeriggio la stessa Nocelli ha ufficializzato le modifiche che per volontà del presidente Tony Tiong ratificate nel consiglio di amministrazione tenutosi nella mattinata sono state apportate al vecchio organigramma societario sono state ritirate le deleghe da amministratore a Roberto Ripa che resta in società in un ruolo diverso per lui è pronta la casella di supervisore dell'area tecnica in pratica dovrebbe occuparsi insieme al DS Micciola della costruzione del nuovo organico oltre che supervisionare le attività della squadra e supportare l'allenatore Donadel Ripa avrà anche la supervisione del settore giovanile ha annunciato anche l'obiettivo dell'Ancona la Serie B in tre anni ci sono state delle anomalie della gestione del budget il calendario delle amichevoli che sarà reso noto prima della partenza per il ritiro di Cingoli in programma per il 24 luglio la società sta definendo appunto questo calendario delle amichevoli un'altra notizia invece riguarda la Civitanovese c'è l'annuncio ufficiale della conferma di Michele Paolucci proveniente dalla Serie A Michele Paolucci nella scorsa stagione capitano e giocatore chiave sia in campo che fuori con la maglia rosso-blu continuerà il lavoro iniziato con la società pronta a raccogliere le nuove sfide che il campionato di eccellenza riserverà a lui e alla squadra di Civitanova nella prossima stagione abbiamo iniziato un viaggio bellissimo ha detto Paolucci per me da Civitanovese se do che capitano poter difendere ancora i colori della mia città è una grande responsabilità ed ha anche un privilegio sempre dal nostro sito troviamo la notizia del possibile di un papabile nuovo direttore sportivo della Fermana stiamo parlando di Andrea Galassi classe 64 ex calciatore professionista con passato alla Samb a fine anni 80 ultimamente non ha vissuto annate saltanti in serie di Traforlì quando aveva condiviso l'esperienza con Mr. Protti e Cattolica retrocessione in eccellenza due anni fa Galassi potrebbe dover raccogliere una pesante eredità quella di un massimo Andrea Tini sempre più ai ferri corti con i Simoni l'indiscrezione raccolta lo conferma certo che la situazione della Fermana è ancora in divenire perché siamo praticamente arrivati all'11 luglio ormai quasi al 12 luglio ancora la situazione è totalmente nebulosa Lorenzo allora quale sarebbe il viaggio o l'avventura dei tuoi sogni realizzabile e concretizzabile ovviamente perché tu dici mai più una cosa del genere però magari nella testa hai qualche altro progetto mai più più che altro perché per la lunga distanza per il fatto di vagabondare per tutto quel tempo queste sono cose ci ho avuto quell'opportunità i tempi lavoravo in Svizzera quindi con le stagioni riuscivo ad accumulare soldi potevo lasciare il lavoro e ho potuto appunto godere di un anno e mezzo di libertà per poter fare quello che ho fatto però chiaramente le cose cambiano poi cresciamo e poi cambiano anche l'ottica di molte cose adesso sono fidanzato sto bene a casa comunque ho avuto molte esperienze ho vissuto all'estero per molti anni ho vissuto in città a metropoli ho vissuto in paesi più piccoli e poi sono arrivato alla conclusione che casa mia potrebbe spero sia la base per poi potermi comunque muovere che la casa tua è sempre Montecosaro in casa mia Montecosaro comunque è il paesetto è il paesetto dove sto tranquillo dove riesco anche a progettare a fare senza avere troppi disturbi ecco quindi idee future più gare che viaggi quindi è ritornato anche il tarlo della competizione sì sì assolutamente c'è questa cosa qua che da un po' di tempo grazie ai ciclisti di campagna che è un gruppo di ciclisti è il mio gruppo di Montecosaro che poi tra l'altro loro mi motivano tantissimo è la mia famiglia è la mia vera famiglia quindi parlando con loro stando con loro pedalando con loro mi è riuscito fuori di nuovo quest'agonismo che poi spero di poter portare avanti adesso c'è stata questa gara in Armenia sono arrivato sesto e tra l'altro con l'unica PC gravel se anche a livello meccanico come facevi lo meccanico se l'ho pregato che andasse tutto bene perché sono arrivato all'arrivo in condizioni veramente pessime però però delle competenze devi averle assolutamente sì chiaramente una catena extra perlomeno saper cambiare una catena saper cambiare delle pasticche per i freni le cose basilari ecco assolutamente sì altrimenti non potresti fare assolutamente nulla però un viaggio dei sogni non ce lo dici no viaggio dei sogni non ce l'ho un viaggio dei sogni il mio sogno adesso è continuare a gareggiare questo tipo di gare estreme che non è né giro d'Italia né gare su strada sono gare super estreme quindi quasi sempre fuori strada molto dislivello poi c'è il confrontarsi con con tutto il mondo perché alla fine gareggia gente che viene da quasi tutto il mondo e e poi c'è a me personalmente quello che emoziona di più è il fatto di di ritornare magari con il premio che non è la coppa è aver riportato a casa ritornare a casa come tutto di un pet tutto tutto intero e soprattutto magari aver fatto qualcosa tipo quello che è successo adesso in Ormenia che arrivare sesto con una bici rispetto a tutti gli altri che avevano una mountain bike arrivare sesto con la mia bici e con il mio setup e come ero io tra l'altro perché comunque lavoro tutto il giorno quindi per allenarmi è complicato per me è tantissimo questo è quello che voglio continuare a fare continuare a sognare gare e farle più che altro farle e non sognarle assolutamente senti la salita più difficile che hai affrontato se te la ricordi 80 km fino a 3.300 metri con 40 forse km di bici a spinta oltretutto perché comunque strade non pedalabili assolutamente e poco ossigeno ecco e poco ossigeno tra l'altro perché tu sei arrivato anche a certe altitudini 3.300 3.300 metri quindi anche con le difficoltà freddo respiratorie respiratorie che sappiamo e il ciclismo ad alti livelli lo segui? non tanto in realtà perché non è quello che mi appassiona davvero è la bicicletta e la competizione insomma quello che ti appassiona grazie Lorenzo Bacifava in bocca al lupo per tutte le tue cose ovviamente allora noi concludiamo con sempre dando un'occhiata al sito utvrs.it perché per chiudere il discorso delle notizie sportive lo storico fisioterapista della fermana Walter Costi San Giorgese è vicino al divorzio sta per dire sì al Pescara di Zeman importante chance dopo lavoro certosino al Recchione ha recuperato dei giocatori che sembravano persi come Parodi come Misuraca 35 gare dopo una stagione complicata lo stesso Giandonato che afferma ha sempre innalzato i suoi numeri personali senza scomodare Rocco Costantino Luca Cognigni e Ilario Iotti bene Walter Costi fisioterapista San Giorgese è vicino al divorzio con la fermana tornando al discorso che facevamo in precedenza e infine un'ultima notizia di cronaca che non possiamo non dare il personale specializzato della Polizia di Stato della Questura di Ancona provveduto ad accompagnare in patria due cittadini nigeriani già detenuti presso la locale casa circondariale al fine di dare esecuzione all'espulsione giudiziaria emessa nei loro confronti dal magistrato di sorveglianza di Ancona quale pena alternativa alla detenzione in carcere entrambi i cittadini nigeriani irregolari pluri pregiudicati con precedenti di polizia per esistenza e violenza pubblico ufficiale minaccia lesioni maltrattamenti in famiglia quindi e altri reati non potranno rientrare in Italia prima di dieci anni siamo davvero in conclusione io vi ringrazio della cortesa attenzione ringrazio Lorenzo Bacifava abbiamo già salutato in precedenza il sindaco di Osimo Simone Pugnaloni vi ricordo che fatti e commenti con la conduzione di Luca Falcetta tornerà domani come sempre puntuale a partire dalle 23 il primo appuntamento informativo della giornata di mercoledì alle 13 e 15 con il nostro telegiornale grazie ancora per essere stati con noi e buonanotte a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti